Alfonso Signorini, con il passare degli anni, è diventato sempre più potente nel settore televisivo. Il re del gossip da tempo dirige Key Magazine, oltre a timonare il grande fratello V. I telespettatori del reality show di Canale 5 avranno notato che al giornalista nessuno osa mai rispondere con toni aspri, eccezione fatta di recente per Sara Manfuso che è stata cacciata dallo studio alla velocità della luce. Ebbene, perché cotanta reverenza? Da dove viene tale atteggiamento? Signorini, come lui stesso ha confermato in tempi non sospetti, è potente. Insomma, è un personaggio da cui passano decisioni cruciali, sia per quello che riguarda la cronaca rosa, e qui entra in campo Key Magazine, sia per quel che concerne il piccolo schermo, e qui entra in gioco il grande fratello Vip ereditato da Ilari Blasi e da lui medesimo rifondato Signorini ha fatto in modo che la trasmissione si espandesse in modo vertiginoso. Attualmente il raggio di azione del programma non si esaurisce nella diretta in prima serata, oltre che in quella disponibile H24 su Mediaset Extra, il GFVip è diventato una creatura con molteplici ramificazioni che terminano ora nello streaming. GFVip Party, ora nei social, casa Key, in onda su Instagram, spesso tratta temi legati al reality, ora su Iman, ora in altri show televisivi, a mattino 5 e pomeriggio 5. Federica Panicucci e Barbara D'Urso ad esempio si collegano ai temi della casa, per non parlare di Verissimo che realizza interviste ad hoc agli inquini e limina. Insomma, il grande fratello Vip è in grado di generare un indotto imponente nel mondo dello spettacolo. E chi ci finisce dentro sa bene di poter sfruttare una visibilità mastodontica che prosegue anche dopo l'esperienza vera e propria nell'oft di Senza parlare della popolarità che si acquisisce sui social, chi riesce a staccare il pass per diventare concorrente vede aumentare automaticamente il proprio pubblico sul web. Inoltre c'è chi anche trova lavoro nell'orbita da qualche esempio, Rosalinda Cannavò e Sofie Codegoni hanno timonato casa Key, Soleil Sorge e Pretelli GFV Party, Giulia Salemi si è persino guadagnato un ruolo in prima scuola. Grazie. Grazie